Ok ragazzi, devo andare a prendere Veronica alla stazione e invece di andarci con lei Ci vado con questa bestia Facciamo scaldare il mezzo Ragazzi, sto coso, non so se si vede dalla GoPro, ma è enorme Perché la versione 400 è larghissima, è più largo del T-Max Mi sono rubato il mezzaccio A parte che la manopra del gas è dura, quindi non ti viene da darlo tutto Allora, a corto non va un cazzo Ok Credo l'abbiano fatto quelli un po' più pesanti per consumare meno Però mi sa che a lungo inizia a tiricchiare A qualcuno che ho uno scooter 400 ragazzi ovviamente Sarebbe da fare uno sparo questo contro l'RC390 Faremi sapere con un commento Credo che vinca tranquillamente l'RC390 però, insomma Ma poi come se tocca con una gamba solo o con due gambe sullo scooter? Non lo so Vai 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 Con queste vasche qua comunque uno si diverte Oh, no cazzo vai La signora stava morendo Ok, fermali, fermali, fammi bussare E c'è la mamma Oddio No, qua c'è passo Ce l'avevamo? Dai, dai Ma questa leva qui è orribile Cioè è inutilizzabile Ma perché c'è sta cafonata qua qua qua? Vabbè Non facciamoci troppe domande Però lo sapete che fare il motovlogger col T-Max sarebbe l'unico in Italia No, non è vero L'ho già fatto a me col stampinato Che poi il T-Max è usato Questa come praticamente un'RC nuova Però vabbè Ah, che bel vento Dentro qualcosa di un occhio, porco Nante, nante di oh Ah, che bello Prendere le buche Prende apposta, regà Boh, giuro Non so come cazzo fanno I autisti, come si dice I guidatori dei pullman sinodabili dentro Roma Cioè, veramente Complimenti È difficile, eh Occhio Immaginatevi se fosse stata Tipo una bombola di cazzo C'ho paura a iniziare il sorpasso Perché non so se lo finisco Se rimango là dentro E poi me schiaccio Oddio 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 Incredibile Incredibile Potenza Per Messico Grazie a sé Io mi fermo un attimo qua Come ho dentro occupato Dove stai? Tu dove stai? Tu dove stai? Sì Ok All'uscita, all'uscita? Sì Quella aveva di fronte il Mac? No Voi là Ho capito Dove ho andato Dove è qua Oddio c'è sta il Mac E subito stavo E poi davanti al Mac Cazzata la signorina Ok, il piano è stare qui E aspettare che arrivi Ma Arrivi proprio davanti al Mac? Sì Ok Sto a destra Al Mac? Sì, di fronte Ok Arrivo al Mac Dove stai? Dove stai? Tieni qua La moto si è rotta Ma che sei coglione? Così sei più comoda Attenta 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 Vieni da cazzo Sei pronta per queste emozioni? Attento Attento Cioè tu mi abbracci con lo scudo Così ti posso abbracciare Sei comoda? Normale Tu padre lo sai che l'hai preso? Giustana È una moto È una moto Sul mezzo nuovo Senti? Oh 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 Dove è? Oia Our Dove è? Oie Dove è? Ots Grazie a tutti